Siamo con il professor Gianfranco Lagrassa, già docente di economia politica nelle università di Pisa e Venezia. Come economista dal 1963 si è mosso nell'area sinistra del PCI. Oggi in pensione è un prolifico autore anche sul blog Conflitti e strategie. Salve professor Lagrassa. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo alcune domande per lei. La prima. Gli economisti e studiosi Michael Hudson e Alan Parghe hanno descritto l'euro e l'unione europea come un progetto per riportare i popoli europei all'età del feudalesimo. Costanzo Preve parla invece di capitalismo pienamente realizzato. Qual è la sua posizione ed il suo pensiero in proposito? I due autori citati, Hudson e Parghe, a dire la verità, io non li ho mai letti, ne ho sentito parlare così. So che si interessano soprattutto dell'area finanziaria in particolare, mi sembra, se ben ricordo, ma non li ho effettivamente letti. Non sono molto sensibile, dico subito ai discorsi sul ritorno al feudalesimo e altre cose del genere che francamente non so neanche che cosa significhino. Per me il capitalismo è capitalismo e anzi, secondo me non esiste neanche il capitalismo, esistono più capitalismi perché secondo quanto formulato anche negli ultimi anni c'è stato un capitalismo borghese, che è quello inglese, quello poi analizzato da Mars, il laboratorio di Marx a metà ottocento, un capitalismo che è finito probabilmente con la prima guerra mondiale, sicuramente con la seconda era sparito, ma già con la prima guerra mondiale aveva già lasciato il campo a un altro capitalismo più importante, direi è quello che domina tuttora quello di matrice statunitense. Oggi poi ci sono Cina, Russia, queste formazioni sociali ancora non ben definite a mio avviso. Ritorno al feudalesimo, ripeto, onestamente non mi pronuncio perché non so neanche che cosa possa significare. Credo che i due autori comunque siano probabilmente persone preparate nel loro campo, però io non sono mai stato sensibile, l'ho detto molte volte, a tutti questi discorsi sulla finanza, sull'uscita dell'euro eccetera, non perché non riconosca che l'euro è stata una vera catastrofe, un disastro, direi che perfino personalmente oserei dire ne ho potuto avvertire subito la riduzione del terrore di vita, se come si può dire. Ma a parte quello, il fatto fondamentale che finanza e le politiche monetarie eccetera le posso anche interpretare come strumenti importanti, molto flessibili, ma strumenti di determinate strategie e per capire queste strategie che sono parte della politica, politica in senso ampio, la politica dello Stato, dei partiti, politici, la politica anche culturale, ideologica, la politica naturalmente di competizione tra imprese, quindi la competizione nel cosiddetto mercato eccetera, ma tratta sempre di politiche e a mio avviso per capire queste strategie politiche che oggi in effetti invece è molto difficile comprendere, bisogna affrontare il problema che oggi viene detto di geopolitiche, continuerei a dire anche di politica internazionale e di studiare bene i rapporti tra i diversi paesi, come si configurano e anche all'interno dei diversi paesi, per esempio degli Stati Uniti, degli ambienti dominanti, perché c'è stato, anche se non è comprensibile fino in fondo, ma c'è stato ad esempio un mutamento di strategia importante tra l'amministrazione precedente Obama, Bush e direi però anche in fondo quella Clinton eccetera, sia Bush Senior che il figlio ma anche Clinton e invece più o meno in corrispondenza anche dell'inizio della crisi del 2008 se vogliamo, c'è stato un cambiamento strategico negli Stati Uniti a me interessa quasi più capire questo e credo che sia non facile oggi da comprendere, soprattutto in un'epoca che bene o male si avvia il multipolarismo, sempre ancora con un predominio piuttosto cospicuo e netto degli Stati Uniti, ma si avvia il multipolarismo e questo crea tutta una serie di situazioni che ricordano molto quelle del declino inglese di fine ottocento e quindi quello del periodo precedente, la prima guerra mondiale con cambi di alleanze, mutamenti, accordi, contraccordi, insomma c'è qualcosa di importante e fra l'altro tutto questo secondo me è importante anche per l'Italia, perché l'Italia ormai negli ultimi anni è diventata effettivamente una specie di bailamme, una confusione che sembra quasi creata apposta, io non lo credo invece che sia creata proprio apposta, ma certamente per capire anche quel che avviene in Italia, soprattutto quel che credo avverrà nei prossimi mesi, perché dovranno decidere qualcosa, non possono continuare in questa situazione con questo governo in eterno, quindi nei prossimi mesi, massimo entro un anno, penso che qualcosa dovranno decidere e per capirlo bisognerebbe capire bene anche quello che è lo scontro internazionale in atto, quindi questa è l'idea. Insisto, per me tutta questa enfasi sulla finanza, sulla moneta, la posso capire, che è importante, ma più che altro ripeto come strumento di strategie e dietro le strategie ci stanno diversi gruppi in conflitto, gruppi che non si possono definire così semplicisticamente, ma che hanno ancora anche un carattere a volte nazionale, insomma sono gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, etc., ma non sono solo, ripeto, di carattere nazionale, perché anche all'interno dei diversi paesi ci sono conflitti tra diversi gruppi. ancora più insensibile, devo dire, solo al discorso del cos'è capitalismo pienamente realizzato, che poi in effetti breve parlava anche nelle ultime telefonate, perché ci siamo scambiati anche all'ultimo delle telefonate anche durante la sua malattia, parlava di capitalismo assoluto, una cosa che poi oggi è ripresa da altri, ma che credo si possa scrivere almeno in buona parte a breve, ma non ho mai capito neanche questo, non capisco perché, ripetisco, perché ho detto prima sul capitalismo e sui vari capitalismi, anzi, che per me esistono, è pienamente realizzato, sinceramente, non lo so, voglio dire, perfino se faccio riferimento a un essere umano, un individuo umano che sappiamo oggi, facciamo conto, viva immediatamente 80 anni, e io ormai ci sono, come ho detto, quasi arrivato, ma che io possa definirmi, sono sicuro, dico che sono verso la fine, è inutile che stiamo a raccontarcela, ma devo definirmi pienamente realizzato, non lo so, onestamente, non ho qualche dubbio. Il capitalismo, siccome il capitalismo o i capitalismi, ma questa formazione sociale che in definitiva nella sfera economica si basa su impresa e mercato, ha ancora una lunga storia, credo, davanti a sé, sinceramente, parlare di pienamente realizzato, onestamente, non mi dice niente, ritengo che si debba studiare che cosa, quali strutture ha, come sono mutate, che cos'era il capitalismo borghese che ha avuto, secondo me, una sua buona analisi ed espressione nell'opera di Marx, nel capitale di Marx, non in altre opere, ma che, ripeto, riguarda quel capitalismo, insomma, non ha nessun senso, da anni che insisto che anche il marxismo va tenuto come un gradino di uno sviluppo scientifico, ma oggi come oggi bisogna ripensare veramente pressoché tutto. E lo dovranno fare i giovani, perché io, purtroppo, tutta la mia vita sono stato dentro quell'orizzonte, sono ampiamente, posso indicare i punti che secondo me sono di crisi, le previsioni sbagliate che sono state, a mio avviso, fatte. Dire quali sono i punti fondamentali su cui si è manifestato l'errore, si vede l'errore, questo credo di poterlo dire, ma quanto a riformulare altri ismi e altre teorie, insomma, credo che siamo molto indietro ancora. Ecco, però devo rilevare, insomma, che si è indietro e si continua a restare indietro, perché da almeno 40 anni a questa parte non noto quasi nessun pensiero reale di carattere veramente teorico sulla formazione sociale, sulla società. Insomma, ci sono tante cose così chiacchiere, tante battute, come secondo me anche quella del capitalismo pienamente realizzato, ma non noto un'analisi, che a mio avviso adesso è un'analisi molto rigorosa e che spero, ripeto, prima o poi, insomma, qualche giovane inizierà, dico giovane, insomma, non di 15 anni, a me magari potrassi anche che sia appena nato quello che alla fine, perché se continuiamo con questo andazzo credo che di tempo ce ne vorrà per riuscire a impostare un discorso abbastanza rigoroso su questi temi. Professor Lagrassa, la cronostoria della costruzione dell'Euro vede, all'origine della fondazione della moneta unica, un accordo tra Germania e Francia. Gli Stati Uniti, secondo lei, hanno un ruolo in questa storia o sono dei semplici spettatori? Beh, sì, non è una questione che si possa decidere, non ricordo più bene il calcio, ma se ricordo ancora qualcosa c'era il cosiddetto controllo a zone invece che la marcatura stretta. Ecco, io credo che gli Stati Uniti controllino comunque quello che avviene in Europa da sempre, dalla seconda guerra mondiale, sì, dalla fine della seconda guerra mondiale in Europa, ripeto, occidentale, poi dopo il crollo dell'URSS, forse ancora più nell'Europa orientale. Quindi è chiaro che quello che avviene, a parte gli accordi specifici, quelli sull'Euro, i vari trattati o altre cose, quello può essere anche che ci siano stati accordi tra Germania, Francia e magari con l'intervento anche di altri paesi. Dubito però che gli Stati Uniti si facciano prendere proprio in contropiede, ecco, quello non credo. Infatti anche lì ho molte perplessità quando vedo questi attacchi feroci alla Germania, non perché non dica che la Germania magari ha i suoi demeriti ampi, ma credo che dietro tutto si debba sempre vedere, insisto, se non gli Stati Uniti nel loro complesso, ma certi determinati ambienti, chiamiamoli ambienti, si sono sempre chiamati così, per dire che ci sono alcuni che controllano quello che avviene in Italia e anche tutti questi sommovimenti che stanno avvenendo, anche in questi giorni direi, anche con questi incontri adesso tra Renzi, Berlusconi etc., non credo che gli Stati Uniti ne siano senza notizia, ecco, insomma. Tanto più che in Italia loro hanno un ottimo rappresentante che è stato anche rieletto, contrariamente a tutte le aspettative e a quanto mi sembra era sempre stato fatto, è stato rieletto, è l'uomo che era stato in viaggio negli Stati Uniti già nel 78 per trattare certi cambiamenti di posizione del PC e quindi, insomma, gli Stati Uniti, insisto, secondo me, soprattutto certi ambienti e certi ambienti democratici in modo particolare tengono sempre ben fermo quello che avviene. È vero che c'è stato un periodo in cui hanno agito più direttamente nel mondo, mentre poi con l'ultima amministrazione, non so, tanto per dire per quel che riguarda la Libia, si sono serviti di sicari come Francia e Inghilterra, in particolare la Francia e anche l'Italia, che che se ne dica, che l'Italia è intervenuta abbondantemente in Libia più di quanto non si creda. E' così, ma in linea, la stessa cosa anche in Siria hanno usato poi, ma ripeto, gli Stati Uniti tengono abbastanza sotto controllo, direi, la situazione non solo in Europa, anche in altre parti del mondo evidentemente, ma anche in Europa. Credo che l'Europa sia più importante di quanto non si dica e anche l'area mediterranea credo che non sia da sottovalutare. C'è una cosa che ho notato, che adesso si cerca di far pensare che l'avversario principale degli Stati Uniti è la Cina, quindi gli interessi degli Stati Uniti si spostano strategicamente, soprattutto verso l'Asia. l'avversario principale ancora al momento è la Russia, malgrado tutto e quindi quel che avviene nell'Europa, Europa orientale eccetera, ma anche in tutta la zona del Medio Oriente, del Caucaso, d'accordo, la non se ne parla, ma voglio dire anche in tutta la parte del Medio Oriente e Africa, del Nord, quindi area mediterranea, ha una sua importanza. Quindi direi che Europa e in particolare l'Italia sono sempre, ripeto, controllati a zona, invadisco dagli Stati Uniti, questa è la mia opinione. Poi, ripeto, accordi specifici ci mancherebbe altro, ci possono benissimo essere anche tra Paesi europei, questo va da senso, per quel che riguarda i particolari, sto dicendo le linee generali. Il sistema Euro, addetta di molti osservatori ed economisti delle più varie e disparate estrazioni politiche, è destinata a crollare. Lei trova questa ipotesi plausibile? Cioè, tornare alle valute nazionali, ma rimanendo imprigionati dentro agli stessi paradigmi ideologici odierni di libero scambismo. Secondo lei, in questo quadro, cosa cambierebbe? Beh, sì, io adesso non so se crolla o non crolla. Direi che, così, la mia impressione è che non crolli proprio nulla, che non ci saranno crolli gravissimi. Ma, però, far previsioni su questo specifico problema, sinceramente mi sembrerebbe di dover far quasi il profeta, comunque non so, non sono in grado di valutare adeguatamente. Io comunque, mi pare che ne avevo accennato già prima nella prima domanda, non credo che il problema essenziale, per esempio per acquisire al limite una maggiore autonomia nazionale, una maggior sovranità, sia semplicemente la politica monetaria, il problema di ritornare alle monete nazionali o altre cose del genere. Secondo me, in effetti, occorrono altri fenomeni di cui non vedo nulla all'orizzonte, occorrono proprio altre forze politiche, per esempio nel nostro paese, tanto per dire. in Francia c'è il front nazionale, ma anche lì non saprei esprimere al momento un giudizio preciso e definitivo. certamente non vedo forse al momento in Europa e, tanto meno nel nostro paese, che siano in grado veramente di acquisire un'autentica indipendenza o comunque un'autonomia ecosufficiente. Il libero scambio, credo, come già fu nell'Ottocento, con la teoria del commercio internazionale, per esempio di Riccardo, è funzionale sempre al paese centrale, al paese predominante, al paese che grosso modo costituisce il coordinatore in qualche modo del sistema mondiale, credo di sì. Insomma il libero scambio è sempre favorevole. Dun a caso nell'Ottocento si svilupparono anche in contrasto con Riccardo le teorie di Liszt, che poi in definitiva si affermarono, perché si affermarono in Germania sicuramente, si affermarono in Giappone e furono all'origine di fatto il protezionismo della guerra civile americana, non scordiamocelo mai, non la liberazione degli schiavi e altre cose del genere, ma effettivamente il fatto che l'industria del nord voleva proteggere l'industria nascente, secondo le teorie che furono anche di Liszt e invece il sud cotoniero aveva tutto l'interesse a mantenere il libero scambio perché forniva il cotone all'Inghilterra e all'industria tessile inglese. Tanto è vero che l'Inghilterra in quel periodo spostò molto i suoi commerci e anche i suoi interessi. Sì, diciamo anche la coltivazione di cotone, per esempio in India, Egitto, proprio perché si erano creati problemi con gli Stati Uniti. E indubbiamente questo problema è stato secondo me proprio l'elemento centrale della guerra civile, che è un elemento fondamentale. Altri parlano della liberazione degli schiavi non nel senso buonista della liberazione dell'uomo, degli uomini, questo, la giustizia, no, nel senso che viene illustrato nel film Cheimada da Marlon Brando quando spiega che la differenza tra la moglie e la prostituta, non so se chi si ricorda questo. Per cui insomma il fatto di liberare gli schiavi e renderli lavoratori salariati era comunque un vantaggio, ma era un vantaggio pur sempre, insisto, per il problema dell'industria del Nord. E l'industria del Nord chiedeva anche il protezionismo perché, insomma, ci sono tutto un problema di economie, diciamo esterne, interne, eccetera, e soprattutto il problema che ben si sa, per cui l'industria nascente è in svantaggio all'inizio, è chiaro che l'industria americana poteva avere costi più alti di quella in grege, quindi aveva bisogno di un periodo di protezionismo, che se uno legge anche il testo, per esempio, di Lista, non è mica antiliberista, non dice mica che non vada bene il liberismo, però in un primo tempo bisogna sviluppare, che l'industria nascente raggiunga i livelli di efficienza, eccetera, di quella del paese più avanzato, poi dopo si può anche ristabilire il libero commercio internazionale. Allora, ripeto, il libero scambismo oggi, a mio avviso, serve molto di nuovo, come un tempo, diciamo, quelle teorie all'Inghilterra, anche questo serve molto agli Stati Uniti, il libero scambio. Detto questo, però, insisto, quello che è fondamentale deve essere la nascita di determinate forze politiche, che non vedo però la possibilità che rifacciano nazionalismi o altre cose del genere, ma che insistano con una maggiore autonomia nazionale, sicuramente, poi su come ottenerla si apre il discorso, perché in effetti è un discorso un po' complicato. Certo, in Italia, se continuiamo a dare colpi, come abbiamo dato, soprattutto ai nostri settori strategici, quelli un po', gli unici un po' rimasti, come Eni, Enel, Finmeccanica, eccetera, insomma, siamo a rischio di… ci sono quelli che pensano che basta sviluppare il turismo, che fa semplicemente ridere, non lo lasciamo andare, insomma. Quindi, sì, ritengo che i problemi siano di quest'ordine. Non vedrei però tanto, insisto, la politica monetaria come elemento centrale per conquistare questa… ci vuole una volontà politica e una capacità e flessibilità strategica, che francamente in questo momento non mi sembra di vedere da nessuna parte, poi, o da se mi sbagli. Esco un attimo dalla domanda. Quando noi approcciamo alle politiche monetarie, in realtà non stiamo parlando di appropriarci noi di una politica monetaria come strumento politico di lotta, bensì di distruggere uno strumento di coercizione. Cioè, la politica monetaria non vuole essere un'arma nostra, quanto vogliamo togliere un'arma al liberismo europeo, che in aperto contrasto con, ad esempio, i saldi finanziari di settore di Godley sta utilizzando la politica monetaria per rendere dipendenti intere economie di intere nazioni dal debito e dal capitale. Quindi, più che un'arma nostra, la vediamo come un fattore chiave per togliere un'arma al liberismo. No, ma togliere l'arma significa già fare una politica, però ci occorre appunto una politica e accorrono forze che sappiano portarla avanti. Questo è il problema. Cioè, è quello che non vedo. Ci vuole una volontà politica, una capacità che non mi pare di vedere oggi. Quindi, sì, appunto, voglio dire, lo vedo appunto come strumento, ma lo strumento deve essere usato da chi lo sa usare e da chi lo vuole usare in una certa direzione. Anche perché la difesa è una bella cosa, ma se uno continua solo a difendersi, a cercare di spuntare le armi dell'avversario, rischia di continuare. Sì, voglio dire, la difensiva è una bella cosa, ma poi bisogna anche qualche volta saper passare all'attacco. Si può ritirare, sempre come Cutuso, fin russi, a lasciare avanzare Napoleone, si può fare tutto quel che si vuole, ma poi alla fine bisogna dargli la legna, inseguirlo. Noi la vediamo come condizione necessaria, ma in senso insufficiente. Il movimento operaio al momento si trova in mezzo al guado. La politica ignora le istanze del mondo del lavoro e degli oppressi. Secondo lei abbiamo bisogno di un nuovo partito? E se sì, come dovrà essere strutturato? Ritiene che sia ora di abbandonare una dicotomia superficiale destra-sinistra? Sì, credo che l'economia destra-sinistra non abbia più da non so quanto tempo significato, nel senso che destra e sinistra storicamente erano altre cose. Poi per un certo periodo di tempo diciamo che la sinistra è stata sostanzialmente la socialdemocrazia, almeno qui in Europa. Quindi direi che questa dicotomia in realtà non esiste. È una dicotomia legata a problemi. Qui in Italia per esempio per vent'anni c'è stato solo Berlusconi sì e Berlusconi no. Naturalmente il centro-destra era più, sui costumi, magari più tetragona, certi discorsi su certe libertà, il femminismo, i gay, gli immigrati, eccetera. La sinistra invece era più accumulante su questi temi. Ma voglio dire, per quel che riguarda le politiche, soprattutto la politica economica e la politica estera, sinceramente non riesco a vedere delle grandi differenze. C'è stato, e insisto, c'è stato un momento, insisto perché l'abbiamo parlato nel blog, e per un momento, conflitti e strategie, per un periodo qualcuno ha pensato che volevamo quasi diventare berlusconiani. Semplicemente abbiamo preso atto che per i suoi interessi, tra il 2003, agosto del 2003, quando Putin andò in Sardegna tornando da Libia e Algeria, e fece determinati accordi, per conto anche della Gazprom, con Legni, eccetera. Ecco, tra il 2003 e il 2009, quando mi parla nell'autunno, Berlusconi si recò da solo, o credo una persona di accompagnamento da Putin, non so cosa si sono detti, ma immagino che abbia detto che non poteva più evidentemente fare nulla, e difatti credo che dal 2010 in poi Berlusconi sia stato sostanzialmente un complice, con tutta una serie di adattamenti, di furbizie, eccetera, ma un complice delle svolte che ci sono state. Non credo affatto, attualmente hanno fatto tutta una grande pantomima, è stato scalzato da Napolitano tramite Monti e poi Letta, eccetera, ma insomma in realtà diciamo che non è che si sia molto opposto a questo essere scalzato e anche, ripeto, sulla faccenda libica che è tipica, è stato attradito, diciamo, tutto e tutti con tranquillità, perché evidentemente non poteva più farla. Però è vero che c'è stato un periodo in cui, io credo anche per suo interesse, insomma, ha favorito quegli accordi Eni, Gaspun, eccetera, il problema del South Stream, per cui sembrava esserci un qualche movimento, insomma, si è mostrato, ha mostrato la corda poi, ripeto, negli ultimi anni l'ha mostrata completamente. Questo per quel che riguarda destra e sinistra, per quel che riguarda il movimento operaio, devo dire che secondo me il movimento operaio è morto nell'ottobre del 17, quindi perché è morto, diciamo, come fenomeno propulsivo, come quello che si credeva già potesse attuare una certa trasformazione del capitalismo, eccetera, ma in realtà poi ha accettato, perché pare che fosse conveniente per tutta una serie, per come si strutturava questo movimento nei partiti operai, i cui vertici fanno parte dei dominanti in contrasto con altri gruppi dominanti che invece hanno radici nell'imprenditoria o radici in altri luoghi, nelle professioni, non so, comunque ci sono tutta una serie di gruppi, anche senza arrivare affatto al corporativismo, anzi senza assolutamente arrivarci, ma ci sono gruppi di vertice che sono gruppi dominanti, anche quelli che dicono di rappresentare gli oppressi. La Camusso è un elemento dominante tanto quanto Squinzi, direi tanto quanto Marchionne, e fa parte di un gruppo di vertice che lotta contro altri gruppi per una serie. Ora, questo problema non è solo di oggi però, è un problema ormai antico, perché l'intuizione che ebbe Lenin quando disse e parlò oggi la rivoluzione si sposta ad Oriente, perché le masse d'Oriente erano, secondo lui che era un po' culturalmente eurocentrico, sono culturalmente retrate, ma politicamente avanzate, mentre il movimento operaio dei paesi capitalistici di allora, lui diceva, è culturalmente avanzato e politicamente retrato. Insomma, quell'intuizione voleva significare che la spinta di trasformazione, che comunque no, la trasformazione verso il socialismo, ma in ogni modo, la spinta di trasformazione, la spinta più radicale, si spostava e si è spostata in effetti verso l'est. E il movimento operaio dei paesi capitalistici avanzati, qui in Occidente, è sempre stato all'interno della riproduzione dei rapporti di questo sistema sociale, con la formazione, ripeto, di partiti e di gruppi di vertici, questi partiti, che sono gruppi dominanti in conflitto con gli altri. Ecco, questa è la mia idea, quindi io da molto tempo non parlo più di movimento operaio, poi insomma, di quelli che rappresentano gli oppressi, per carità. Si è visto anche nel terzo mondo, le masse oppresse del terzo mondo, da chi sono stati in fondo rappresentati, da gruppi che poi sono portati, anche i palestinesi, più oppressi dei palestinesi li abbiamo visti, ma io credo che dentro Hamas si siano creati già dei gruppi di vertice di un certo tipo, che non è a caso, non è solo Abumazze, in via dicendo, che fa trattative con gli occidentali, oggi anche Hamas si arrangia a suo modo. Quindi la questione ancora una volta deve essere reimpostata, proprio anche teoricamente e ovviamente dal punto di vista pratico, in modo molto diverso da quello che si pensava secondo le vecchie ideologie, il vecchio contrasto famoso, capitale, lavoro, non credo che funzioni proprio più. Ecco, questa è la mia opinione. Veniamo ora alla questione nazionale. I movimenti di sinistra sembrano ancora fermi alla polemica tra Trotsky e Stalin. L'uno predicava la rivoluzione permanente, l'altro ribatteva con la necessità di giungere al socialismo reale all'interno reale delle nazioni, prima di espandere il conflitto al di fuori dei propri confini. Secondo lei la sinistra ha travisato l'importanza della questione nazionale? Ciò può dipendere dall'errata interpretazione del pensiero di Marx riguardo alla supposta estinzione dello Stato borghese Tukur? Beh, intanto devo dire che ho fatto non a caso un'intervista, che forse non è molto conosciuta, proprio sul problema dell'estinzione dello Stato, perché lì si sono creati molti equivoci. Marx ha parlato di estinzione degli apparati coercitivi, ma anche in Stato e rivoluzione, non dello Stato in quanto apparato burocratico e amministrativo che cura determinati affari generali cosiddetti. Quello va da sé che resta. Questa era una polemica che ho sviluppato anche con l'amico Previ in passato, che credeva che Marx parlasse dell'estinzione, ma non solo lui, anche lo surdo, tutti pensano che Marx parlasse dell'estinzione dello Stato, no dello Stato in quanto apparato burocratico, dell'apparato coercitivo. Come diceva Gramsci, è egemonia corazzata di coercizione. Ora, se effettivamente, se effettivamente, perché questo è il problema centrale, si fosse creata una situazione di transizione verso una società non più basata sull'antagonismo di classe, su differenziazioni, quelle che Mao poi chiamerà le contraddizioni all'interno del popolo, ma senza più l'antagonismo di classe, se la visione dello Stato è quella di uno Stato che ha strumenti coercitivi per aiutare la riproduzione di un sistema in cui rimane classe dominante, quella classe che per Marx era la classe dominante, dei mezzi di produzione, ebbè è chiaro che se termina, se si forma veramente quel corpo lavorativo, collettivo, dall'ingegnere all'ultimo manovale, con il fatto che i capitalisti ormai diventano dei puri proprietari assenteisti, quasi signori dei rantier, eccetera, e quindi pian piano, pian piano o anche tramite un atto rivoluzionario, comunque questi vengono espropriati e si avvia una transizione verso il primo gradino della società comunista che era il socialismo, eccetera, insomma pian pianino, venendo meno l'antagonismo di classe, mi pare ovvio che non ci sia più bisogno di strumenti di coercizione, ma che non esista lo Stato, o che non esista anche la polizia, non è mica Marx forse cretino, devo sapere che c'era violenza anche, non so, assassini, o delinquenti, o altre cose, o anche furti, anche furti, perché mica Marx parlava della proprietà dei mezzi di produzione, ma mica diceva che diventava collettivo tutto, magari anche l'orologio, o certi beni propri, insomma che uno ha, quindi insomma, sapeva benissimo comunque che la società ha bisogno di una organizzazione generale che noi chiamiamo Stato, ma insisto, il marxismo, lo Stato è sempre distinto tra un apparato generale, di amministrazione, eccetera, e l'apparato coercitivo che deve difendere un certo tipo di riproduzione del rapporto che lascia la dominanza, la predominanza alla classe proprietà di mezzi di produzione. Se veramente si fosse verificata la previsione di Marx della formazione del lavoratore collettivo, cooperativo, dall'ingegnere, dall'ultimo manovale, di questa quindi fine della proprietà nel senso capitalistico del termine, eccetera, mi pare ovvio che non c'era più bisogno della parte coercitiva. Tutto lì, non è che ci sia altro. Però è vero, è vero, detto anche questo, questo riguarda il problema dello Stato e dell'estinzione dello Stato, ci tenevo, comunque ripeto, in YouTube si trova anche 16 minuti miei su questo problema in cui l'ho tratto un po' più diffusamente. Per qualche lato che riguarda la questione nazionale si credo che in parte sia stata un po' sottovalutata, anche perché c'è stata questa idea dell'internazionalismo proletario che insomma ha funzionato fino a un certo punto perché sappiamo bene insomma che alla fine sì, sì, si sono battuti tutti i partiti comunisti, eccetera, ma insomma non hanno mai impedito la prima guerra mondiale insomma, gli operai si sono scatenati lo stesso gli uni contro gli altri nelle varie guerre coloniali insomma non scordiamoci cosa faceva il partito comunista francese insomma durante l'occupazione di Algeria eccetera non è che proprio si opponesse in modo strepitoso alla politica colonialista della Francia alla fine le cose sono andate in modo diverso e non certo per merito del partito comunista francese quindi è vero che questo internazionalismo proletario è stata una cosa molto ideologica l'idea poi della rivoluzione permanente secondo me è stata sì una cosa molto bella forse non so che poteva prendere i cuori ma ritengo che abbia avuto ragione Stalin solo che il problema oggi è di capire però che indipendentemente da quello poteva pensare Stalin se era in buona fede in mala fede se pensava di costruire il socialismo se voleva costruire soltanto un potere personale indipendentemente da queste cose guardando comunque alla funzione svolta concretamente dal gruppo dirigente staliniano dobbiamo dire che non si è mai neanche iniziata la transizione al socialismo dobbiamo avere il coraggio di dircelo però c'è stata effettivamente una accumulazione originaria diciamo che ha portato a una società particolare che non riusciva a essere veramente capitalistica e però non era neanche appunto il socialismo e che tutto sommato però è diventata per molto tempo lo stesso una potenza una forte potenza tant'è vero che nella seconda guerra mondiale emerge come il secondo polo insomma praticamente nella seconda guerra mondiale vengono sbattute via Germania e Giappone non se ne parla ma anche Francia e Inghilterra sono battute in pieno e restano appunto l'URSS sì gli Stati Uniti in primo luogo l'URSS e poi dopo pian piano quel terzo polo sempre la Cina che è sempre stata lì insomma quindi tutto sommato io ritengo che sia stata una che sia stata storicamente felice il fatto insomma che nell'URSS abbia vinto Stalin ma non per la costruzione del socialismo per il fatto che si è creata comunque una potenza che per mezzo secolo almeno diciamo dopo guerra si è opposta agli Stati Uniti e tutto questo ha di fatto un po' cambiato il mondo insomma comunque l'ha fatto entrare in una nuova fase che è quella poi che viviamo tuttora ma anche qui voglio dire dovremmo ripensare tutto insomma perché anche il problema nazionale non ha più non può essere il vecchio nazionalismo ma non sono neanche superati però completamente gli Stati nazionali perché gli Stati dei paesi che contano e dei paesi che conteranno sempre più man mano che avanza diciamo la situazione multipolare questi Stati saranno ancora importanti e quindi saranno Stati con il loro territorio con la loro popolazione eccetera eccetera con tutte le varie caratteristiche sono nazionali e poi ci sono Stati sono Stati come la povera Italia che noi sì siamo strettamente in questo momento subordinati e quindi qui si può anche dire che lo Stato è un po' una burletta si dico lo Stato come ente di autonomia intendo ecco poi comunque credo che anche come cura degli affari generali ci sarebbe molto da discutere soprattutto in questi ultimi anni quindi non so ecco se può essere soddisfacente ma più di questo non saprei dire come vede io ritengo insomma che sia veramente tutto da riversare ma veramente c'è un grosso salto che deve essere fatto dal punto di vista teorico e poi però questo significa anche con nuove pratiche e però occorre anche per esempio non so dove potrebbe nascere un nuovo partito si dice trutturato non so come deve essere perché se non nasce niente non so come debba strutturarsi ma soprattutto chi deve rappresentare è che cosa i ceti medi beh i ceti medi sono per il momento un bailamme un quacervo di cose estremamente differenziate che non si capisce la classe operaia secondo me non è mai stata una classe ma a parte quella non voglio adesso entrare in discussione ma insomma in ogni caso oggi come oggi tutti i paesi a capitalismo avanzato è sicuramente non residuale assolutamente ci mancherebbe altro ma insomma è un gruppo sociale esteso ancora ma molto differenziato all'interno naturalmente quindi insomma ce n'è insomma da fare la distinzione tra lavoro autonimo lavoro salariato sì ha importanza ma non lo so vedo una situazione molto confusa dal mio punto di vista con le mie categorie teoriche per il momento non è che riesca a inquadrare perché le categorie teoriche dovrebbero semplificare no alla fine la teoria è un modo di semplificare la complessità del reale se no non ci muoviamo mai e non reagiamo e soprattutto visto che il reale è sempre in movimento ci sbalza sempre di qua di là da tutte le parti deve creare dei campi di stabilità la teoria serve a creare dei campi di stabilità in modo da poterci muovere poi se si fallisce evidentemente bisogna avere la forza di non cristallizzarsi su quella teoria e di muoversi in altro modo perché noi ci immergiamo in una corrente che ci porta fissiamo un punto dall'altra parte della sponda diciamo ecco lì miro ci immergiamo ma dopo quando riemergiamo ogni tanto oh porca miseria ci troviamo un po' più in là e vediamo allora dobbiamo reimmergerci e cercare di ritrovare di nuovo un'altra strada ed è sempre così partendo alla situazione attuale dell'euro e al disastro che ha provocato la sua opinione è che sia frutto di incompetenza o che sia frutto di un piano deliberato ma insomma non credo che sia proprio deliberato in che senso nel senso della perversione no perché deliberato credo che lo sia stato ma non credo che sia stato nel senso di voler creare il disastro però diciamo che probabilmente probabilmente perché bisogna andare adesso a riguardare anche tutti questi europeisti che insomma è sempre stato molto freddo nei confronti a dire la verità di tutti gli artierospinelli insomma e altri insomma adesso ti cito un nome così tanto perché una volta saltava sempre fuori insomma dicevo che no credo che l'euro come anche l'unione europea eccetera sia stati però in parte anche complementari a quello che era il perno una volta la nato qui la nato è rimasta alla sua funzione non è un caso che è rimasta anche quando l'impero del mare tra virgolette è crollato che senso aveva la nato ufficialmente invece lo aveva perché appunto evidentemente serviva per il controllo e soprattutto il controllo dell'area europea io direi quindi anche l'unione europea l'euro eccetera a mio avviso sono delle mosse in cui alcuni gruppi quelli che io chiamo i famosi cotonieri sempre non perché coltivino cotone ma perché mi rifaccio sempre all'esempio dello scontro nord-sud negli Stati Uniti i cotonieri sono quelli che trovano i loro interessi nel subordinarsi a gruppi dominanti di altri paesi e qui in Europa i gruppi dominanti cotonieri sono stati quelli legati agli Stati Uniti parlo spesso anche nel blog eccetera i cotonieri e spesso magari qualcuno che non ha sentito la prima definizione dice cosa sono i cotonieri abbiamo di nuovo quegli coltivatori di cotone no evidentemente no ma sono quei gruppi per esempio quelli tipici della seconda rivoluzione industriale magari e che hanno l'interesse noi che lo fanno sì io li chiamo così per ragioni di polemica eccetera spesso uso il termine sono servi eccetera ma in realtà sono servi perché insomma hanno la loro convenienza a essere complementari al sistema più avanzato che quello degli Stati Uniti però questo significa che naturalmente possono portare appunto un blocco allo sviluppo di certi settori strategici che potrebbero rafforzare la nostra autonomia italiana e anche europea rispetto appunto al paese predominante e anche domani a quelli che magari stanno emergendo come altre potenze contrastanti tipo appunto la Cina la Russia eccetera e quindi anche questo ostacolo di questi cotonieri sempre tra virgolette credo che sia effettivamente una questione io credo che l'Unione Europea l'Euro eccetera tutto sommato rispondevano agli interessi di questi cotonieri e quindi a collegarsi che dice sì che l'Euro è stato anzi è fatto era in competizione col dollaro io non credo che poi sia stato in così grande competizione col dollaro sinceramente quindi se uno strumento è stato anche uno strumento per controllare meglio appunto i paesi europei comunque credo che siamo in un momento ecco siamo in un momento effettivamente molto particolare ci sono sicuramente delle novità il ventennio passato parlo del ventennio diciamo da mani pulite diciamo è quello che è venuto dopo poi l'intervento di Berlusconi quindi con tutto eh credo che sia finito qui in Italia stia finendo e probabilmente vabbè l'Europa ha un'altra storia adesso io sto in effetti in questo momento stavo puntando il riflettore soprattutto sull'Italia e c'è qualcosa che si avverte c'è un bisogno di si nota per tante cose intanto ripeto non può venire fuori nel PD Renzi che non ha nulla a che vedere con la vecchia storia degli ex-picisti ci sono i destri che ancora li chiamano comunisti che a me fa tanto ridere io non li chiamavo non li chiamo neanche ex-comunisti ex-picisti perché il picismo è una cosa molto diversa al comunismo ma questo richiederebbe allora questo lo sostengo dal 1970 tanto per intendersi non è da oggi ecco e allora dico sì c'è stata tutta una storia diciamo di questo ventennio quando è crollata la prima repubblica è venuta avanti non la seconda secondo me non è mai nata ma è venuta avanti certamente una nuova sistema molto molto amemico così molto molto informe direi però sta finendo io credo stia finendo e di fatti sono rabbiosi vecchi picisti gli ex-picisti vedo che cercano di resistere ma temo temo no temo non frega niente ovviamente scusi ti dico temo tanto per dire insomma temo per loro semmai poverini che ci sia effettivamente in atto un ricambio ecco loro stanno resistendo ecco e tutto sommato quasi quasi mi va bene anche che resistano perché quando sarà ricreata una nuova dicotomia falsa destra sinistra credo che le cose non andranno tanto meglio ecco è noto anche un tentativo di ricambio del ceto intellettuale sono usciti una serie di attacchi al vecchio ceto intellettuale che poi è quello uscito soprattutto da 68 che è stato contro il vecchio pc ma che poi alla fine è diventato un centro intellettuale insomma quello ben illustrato abbastanza nella grande bellezza insomma direi questo centro intellettuale che ho conosciuto ampiamente e frequentato anche fin all'inizio degli anni 90 poi magari meno molto meno ma si notava già allora la ire che stava prendendo ma adesso si capisce che è loro questo centro intellettuale solo che onestamente quelli che vengono avanti che vengono portati da alcuni critici del vecchio centro intellettuale insomma non so se sia migliori o peggiori onestamente che insomma quelli usciti dal 68 io li critico soprattutto gli operaisti o via dicendo ma insomma certamente c'era anche gente di valore comunque alcuni giovinastri adesso sì ma scusi a quelli giovani insomma odierni mi lasciano più perplessità non lasci sia un giudizio da vecchio magari i vecchi sempre prontoranno quei giovani può anche essere ma in ogni caso ho una serie di perplessità ecco però noto che c'è questo tentativo sia di ricambio politico all'interno del PD in modo particolare ma anche forse all'interno del centro-destra per ormai Berlusconi ma Berlusconi però resistere e lo fanno resistere perché hanno paura che di nuovo si crei uno sbandamento che ci siano milioni di elettori che non sa bene dove dopo si dirigono quindi tutto sommato sì lo hanno colpito da una parte dall'altra però cercano anche di non colpirlo insomma stanno tentando un trapasso graduale verso un nuovo centro-sinistra e un nuovo centro-destra che non hanno più ripeto la valenza del passato ma che temo non miglioreranno affatto le cose anzi e la stessa cosa mi sembra che avvenga si pianta il passaggio all'interno della cultura del centro-intellettuale eccetera c'è una scontentezza scontentezza alimentata anche da certi giornali eccetera nei confronti dei famosi intellettuali del piffero tanto per rifarmi no cosa che è uscito recentemente e però dopo non è che vogliano un ricambio con intellettuali non di piffero vogliono con intellettuali dei due piffero ecco insomma e in questo giocano alcuni che sono ufficialmente di destra altri sono ufficialmente di sinistra alcuni scrivono sul giornale o sul libero altri scrivono sulla repubblica o sul corriere ma insomma mi dà l'impressione che da una parte all'altra si confluisca verso il tentativo di superamento sia della vecchia parte politica sia della vecchia parte intellettuale ma non mi pare con dei movimenti che abbiano una direzione verso qualcosa di nuovo e in senso positivo nuovo sì ma insomma ma insomma con molte perplessità però adesso veramente siamo credo che siamo nel momento del cambiamento nella fase del cambiamento e quindi insomma io non nutro grandi speranze ma insomma voglio neanche adesso fare il disperato non si sa mai speriamo bene ecco ciao chiudiamo così con un moto di speranza io la ringrazio tantissimo per questa intervista saluto saluto e beh mi saluti anche Fabio con un po' Grazie.